Io farei subito un punto per sapere tutti gli aggiornamenti politici, sappiamo che il Movimento 5 Stelle ha avuto una o due giorni un weekend molto intenso in cui è stato stabilito il programma, soprattutto molto forte, molto chiara la dichiarazione di Stefano, faccio subito una battuta con lei, del candidato Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Di Maio che ha detto il 5 marzo, gli altri rappresentanti delle altre forze politiche ci dovranno dire chiaramente perché non ci stanno, non ci stanno con i nostri punti programmatici che appunto in questo weekend sono stati chiaramente definiti e comunicati. Noi abbiamo in realtà lavorato sul programma, che è un programma condiviso e partecipato da ormai due anni a questa parte, in questi due giorni lo abbiamo sintetizzato in un volantino che quindi è più immediatamente comprensibile e anche consultabile e questo programma all'interno cose delle quali tutti i partiti durante la campagna elettorale parlano regolarmente, nonostante poi quando hanno governato non le abbiano mai attuate e quindi il messaggio di Di Maio è chiaro, noi crediamo di poter vincere queste elezioni e con un risultato importante, a quel punto ci sarà da formare il governo chiaramente e di avere un programma che si possa portare avanti alle camere sul quale chiedere appunto la fiducia e siccome in questo programma noi abbiamo ad esempio il superamento della legge Fornero, la lotta al business dell'immigrazione, la pensione mai più sotto i 780 Euro ed eventualmente 1170 Euro per la coppia, il reddito di cittadinanza, la smart nation, l'abolizione delle leggi inutili, io credo che tutti i partiti che ti stanno prodigando a dire che vogliono le stesse cose possano in questo caso convergere su questo programma. Facili quelle che si vorrebbero venire a creare il 5 marzo, lo chiediamo subito alla Bergamini, Stefano le volevo fare però un'altra domanda perché oggi sui giornali qualcuno ha già fatto qualche stima, insomma di coperture in questi punti si è parlato poco, si è detto quello che si vuole fare, sono ancora con Di Stefano ma si è parlato poco sui soldi che andranno a coprire poi queste spese, c'è chi fa un calcolo di 200 miliardi di Euro, insomma sono soldi importanti, da dove li tirerete fuori? A parte la lotta allo spreco? Soltanto nel capitolo lotta allo spreco dove ad esempio è indicata la copertura si parla già di 50 miliardi recuperati, però sono anche stanco di sentire parlare di coperture all'unico gruppo che le ha presentate perché noi abbiamo insieme al programma, abbiamo presentato anche tutte le coperture al programma, quando in questa legislatura in 14 minuti di Consiglio dei Ministri Gentiloni ha trovato 20 miliardi per salvare le banche amiche della famiglia Boschi Renzi, quindi i soldi in Italia ci sono, non sono tantissimi ma bisogna semplicemente saperli mettere dove serve i cittadini. Quindi se lei non ha un problema di copertura e bisogna solo fare le scelte. Sì faccio anche una battuta, un giorno mi piacerebbe anche sentire le coperture degli altri partiti perché io lo sento chiedere sempre a noi. Noi le chiediamo puntualmente a tutti le coperture, ora le chiediamo anche alla Bergamini. Prima Iana Gagliari e Di Stefano, ecco come la vede allora per esempio una maggioranza, Movimento 5 Stelle primo partito con il sostegno sulla base del programma di Leu da una parte, la Lega dall'altra, certo sembrano soggetti veramente molto diversi. Intanto io sono felice che tutti abbiate già il risultato delle elezioni, io non ce l'ho e la campagna attuale deve ancora iniziare. So per certo che in questo momento il Movimento 5 Stelle è dato intorno al 30% come unico partito, quindi come da solo e tutti gli altri partiti singoli sono almeno 10 punti più distanti da noi perché il PD lo danno intorno al 20% e forse è dato intorno al 15% scarso. Le coalizioni ovviamente devono ancora scendere in campo perché poi diciamo le cose anche come stanno, a sinistra c'è il deserto perché il PD è distrutto sotto gli errori del governo Renzi e Gentiloni, al centro-destra abbiamo l'autocandidato presidente Berlusconi che non può candidarsi perché è condannato per frode fiscale e Salvini al quale Berlusconi non darebbe mai la presidenza della coalizione, quindi io credo che sarà una coalizione che si sfalderà la notte stessa del voto. A quel punto è evidente che il Presidente della Repubblica dovrà dare il mandato a chi ha preso più voti, a meno che non si voglia sovvertire l'ordine costituzionale del nostro Paese e quindi darlo a noi e noi come abbiamo già detto arriveremo alle Camere con un programma, ripeto, che ha dentro delle cose di cui tutti si parlano, quindi vero è che tra l'EU e la Lega Nord c'è un abisso di distanza, ma vero è che noi non stiamo chiedendo a nessuno di fare un'alleanza, noi stiamo chiedendo di sposare un programma e non capisco perché secondo giustamente la mattina è possibile avere un governo di scopo per fare una legge elettorale, tra l'altro dopo che sia Forza Italia che il PD hanno votata, quella con cui stiamo votando, ma non si possa fare invece un governo di scopo per attuare 10 di questi 20 punti per dire, è quello che noi crediamo possibile, è un po' quello che si sarebbe potuto fare anche 5 anni fa, ma forse gli Stefano perché rifiutando sempre voi... Ma voi per Stagio non lo avete fatto per esempio? Perché non portò mai un programma, disse semplicemente datemi i voti, io faccio il governo e poi ne parliamo, ecco non può funzionare così, quindi noi crediamo che con la responsabilità che ci contraddistingue prenderemo l'incarico del Presidente della Repubblica e ci prenderemo l'incarico di comporre qualcosa in Parlamento, se non dovessimo riuscire si apriranno nuovi scenari, ma da qui al 4 di marzo c'è più di un mese ancora, quindi vediamo se ci riusciamo intanto, io sono fiducioso. Chiudere, Di Stefano non so 10 secondi se vorrei dare una risposta, purtroppo devo chiudere, sono andato un po' a lungo, colpa mia. Di Stefano. Beh, è semplicissimo in realtà, noi il programma lo scriviamo da due anni, quindi è tutto tracciato online, visualizzabile, mi viene da dire che chi ha governato come Lega Nord e forse Italia per oltre 10 anni, senza fare nulla di quello che aveva promesso, ha già un programma che non vale nulla, perché di fatto sappiamo già che non lo attuerà. Parliamo di come è gestita Roma e poi vediamo le promesse che le ha mantenute. Il programma è lì, noi non ci siamo mai sporcati le mani, non abbiamo mai rubato nulla ai cittadini italiani, quindi meritiamo credo la fiducia ai cittadini italiani per realizzare quel programma. Poi vedremo... Va bene, devo chiudere purtroppo, vi ringrazio tantissimo.